E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche oggi andiamo insieme a fare il nostro update riguardo l'analisi tecnica dei mercati finanziari in particolar modo dei mercati delle criptovalute andremo a capire quello che sta accadendo al prezzo di bitcoin perché se siete stati con me nella live di ieri ma direi in tutti i video di questa settimana era tutto abbastanza chiaro ne abbiamo discusso abbastanza approfonditamente sui target su quelle che erano le zone di attività e direi che sono state rispettate alla perfezione la perfezione ecco questa penso sia la parola quadro dell'episodio di oggi perché effettivamente è andata come avevamo detto questo non vuol dire che abbiamo una sfera di cristallo questo non vuol dire che non possiamo sbagliare ma sicuramente le probabilità erano della nostra parte e le abbiamo rispettate alla grande detto questo per ora c'è da fare delle considerazioni a riguardo e quindi rimanete con me se non avete ancora fatto ricordatevi di mettere un bel mi piace di iscrivervi al canale con clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati e date un'occhiata ai link che trovate qua sotto in descrizione Prime XBT di tutto insomma li trovate tutti in descrizione sempre aggiornati Allora veniamo a noi per chi non ha visto in realtà io dopo il video di questa mattina ho tracciato questa semiretta interessante perché andava in corrispondenza un po' del top della shadow di questo movimento che avevamo avuto il 2 marzo e appunto l'ho voluto fittare un po' con questa shadow che avevamo avuto invece agli inizi di febbraio e me lo sono dato un po' come potenziale target oltre quella che era la media a 200 media a 200 che in realtà inizialmente è stata bucata però come ogni media e come ogni livello di resistenza che si rispetti servono conferme servono volumi perché con i volumi l'abbiamo avuto anche questa mattina statici o comunque non aggressivi si va poco lontani ok si ci si prova ad avvicinare si la si buca ma poi effettivamente non si ha follow up e continuazione quello che è accaduto quindi è stata una lo vediamo sull'orario che è meglio per capire un po' di cosa parliamo è stata una leg up importante che abbiamo avuto dopo questa range che ci siamo portati avanti dalle ore 17 del 24 marzo alle ore 10 di mattina di oggi ok abbiamo avuto un break lo vedete con dei volumi importanti siamo arrivati con dei volumi interessanti ma poi non abbiamo avuto particolare continuazione sono entrati dei volumi leggermente bellish che ci hanno riportati esattamente da dove siamo partiti lo vedete siamo tornati quasi nel range ok quindi in questi livelli qua dei 44 mila dollari non abbiamo avuto chissà che continuazione bearish cioè non abbiamo avuto uno scarico forte e aggressivo in questo momento qua ok non abbiamo avuto questo e un low più basso del precedente quindi finché rimaniamo su questa struttura ok tutto sommato va bene così ricordiamoci che si stiamo avvicinando al weekend e in quanto weekend sappiamo che i volumi tendono a essere un po' più assenti tendono a mediamente a essere giornate un pochino più statiche solitamente si hanno anche delle fluttuazioni dei pump dei dump ma poi il lunedì vengono resettati solitamente si va a recuperare se c'è stato un dump o si va a scendere se c'è stato un pump non possiamo ragazzi fare analisi tecnica su questa roba qua quindi è solo per ricapire che il weekend basta poco per muovere solitamente il prezzo in ogni caso abbiamo visto anche dei weekend storicamente interessanti dove comunque c'è stato movimento e volatilità in ogni caso vedete qui la media 200 ho già fatto da resistenza come era ovvio immaginare e quindi abbiamo messo la testa sopra ok sicuramente e abbiamo tanto 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 spazio perché abbiamo tanto spazio perché adesso il lo ultimo è questo qui ok e quindi abbiamo tanto spazio per poter trovare eventualmente andiamo in una fase di ritracciamento quello che è il nostro lo più alto del precedente per poter riattaccare questa zona ok più saliamo più abbiamo spazio ok meno saliamo e meno abbiamo spazio per correggere ok le correzioni ci sono e non dobbiamo salientarci di fronte a questo però quello che dobbiamo trovare da bitcoin è forza è determinazione è la volontà di tornare in uptrend quello è ciò di cui bisogna puntare quindi bene questa scalata questa è una scalata importante per il prezzo ora bisogna confermarla con i volumi e la dominas che cosa ci sta dicendo ci sta dicendo attenzione al coin perché io vi ho dato indietro tanto ma adesso mi sto riprendendo abbastanza infatti quello che vediamo è un bitcoin positivo e vediamo tanto al coin oggi invece andare a correggere dopo aver fatto dei pump importanti nella giornate nelle due tre giornate di ieri quindi attenzione a questa cosa qua della dominas da segnalare perché se andiamo a recuperare questi livelli qua vale lo stesso discorso ok possiamo rompere a rialzo e su un bitcoin che magari va in ritracciamento magari andando a cercare quello che è lo potremo vedere le al coin andare un pochino più in difficoltà quindi questo per completezza va tenuto in considerazione tutto sommato comunque la situazione si mantiene abbastanza sotto controllo ricordatevi che le chart non fanno né così e né così ok ma hanno delle fasi appunto di scarico naturale anche nelle fasi rialziste e nelle fasi ribassiste quindi mi raccomando sempre adesso non flashatevi se vedete dei crash oh mio dio è finita ecco così come quando c'è un pump to the moon ma l'invito sempre poi io ci scherzo e ci rido su twitter mi conoscete un po' no per chi mi segue quindi mi diverto a buttare lì delle frecciate però poi veramente le cose quando si fanno sul sale sulle chart mi raccomando sempre razionalità più possibile massima ok la total in realtà vale lo stesso discorso perché era andata a bucare la media 200 ed ha toccato i 2 trillion quindi molto molto bene non li toccavamo più i 2 trillioni da praticamente sì praticamente dal 15 febbraio quindi è passato più di un mese siamo tornati nella parte alta del nostro range e anche qua bisognerà trovare continuazione 2 trillion spartiacque molto importante lo sapete cosa ne penso a riguardo abbiamo visto anche un leggero ritracciamento di ethereum però vedete che anche le principali alcoin si trovano nella stessa situazione ok quindi media 200 che intercetta sulla daily che le stoppa e vedete quanto l'analisi tecnica sia importante anche per trovare i livelli di supporto i livelli di resistenza dove puntare gli ordini di sell dove puntare gli ordini di buy senza una guida senza una traccia ragazzi le cose si fanno a caso e molto spesso si perdono soldi quindi davvero vi consiglio sempre anche per i nuovi che non sanno queste cose non sanno queste basi io ho appunto trovate qua sotto in descrizione anche l'afterside academy investite su voi stessi ok questo è la mia sempre il mio il mio concetto investite su voi stessi perché se non spendete per voi stessi non riuscite a poi perdete un sacco di soldi nel fare delle cose a caso e ve lo dico per esperienza ho visto tantissime persone farlo quindi veramente prendetevi sempre un secondo studiate 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 perché è la cosa più importante quando operate qua dentro su luna nulla di che anche se possiamo tracciare appunto una semiretta comunque ascendente abbiamo perso in questo momento qui la 12 però aspetterai la chiusura in ogni caso un nome che si mantiene molto forte quindi non andate in panico potrebbe essere una buona buy zone sulla 26 perché quando siamo andati a correggere al di sotto anche qui poi si è innescato sempre un bel movimento 26.50 scalare con stop sotto l'ultimo low se non questo e volete stare un po' più conservativi sotto i 75 però per uno swing trade abbastanza elevato di range ok se invece volete essere un pochino più scalper eventualmente entri sulla 26 con stop al di sotto di questo low sempre con estrema attenzione però potrebbe essere un buon fondamentalmente buy the dip anche se non mi piace dare consigli né di investimento nei finanziari uno perché non posso farlo due perché comunque il postafoglio è il vostro e dovete essere voi avere i pantaloni mettiamola così ok per poter fare le scelte senza piagnucolare passatemi il termine quindi mi raccomando sempre voi massima responsabilità sui trade però quello potenzialmente dovete storicamente può essere una buona una buona situazione io la valuterò in corso d'opera nel caso ci fosse necessità quindi ragazzi riassumendo tutto secondo i piani tutto secondo le nostre le nostre previsioni insomma di cui avevamo parlato nei giorni scorsi stiamo a vedere se avremo trovato il top temporaneo quindi da un ritracciamento allora lì mi interesserà eventuali entri sulla 12 e ma daily quindi che si avvicinerà quindi queste zone qua però staremo viterò sicuramente aggiornati io mi fermo noi ci vediamo domani mattina con un altro update e ancora una volta vi auguro a tutti un buon venerdì sera ciao a tutti ragazzi